Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata di fronte alla costa nord del Gargano alle 5.32. Lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, epicentro in mare a una profondità di 23 km a distanza di 7 km dal comune di Rodi Garganico in provincia di Foggia.